Furti ed atti vandalici nelle ultime due sere sono stati commessi in cinque chiese della piana Pistoiese. Le indagini sono svolte dai carabinieri della compagnia di Pistoia e da quelli della stazione di Quarrata, che non escludono che i raid possono essere stati commessi dalle stesse persone. Il primo episodio è avvenuto ieri alla chiesa di Santa Maria Immacolata, a Barba, dove i gnoti, entrati forzando il portoncino laterale, hanno asportato dal tabernacolo delle ostie consacrate, alcune delle quali sono state trovate in terra, aprendo i contenitori di olio santo, capavolgendo alcuni quadri. Il secondo caso è accaduto nella chiesa di Vignole, dove è stato aperto anche il tabernacolo. In questo episodio è stata danneggiata una porta, ma non risulterebbe sia stato portato via nulla. Oggi i militari di Quarrata e Pistoia sono poi intervenuti su richiesta dei rispettivi parroci, prima a Luciano, nel comune di Quarrata, nell'omonima chiesa parrocchiale, nella quale vi sarebbe stata una semplice intrusione con l'apertura del tabernacolo e danni agli infissi, quindi a Bottegone, alla chiesa di Canapale, dove la chiesa e la canonica sono state messe a soquadro senza alcun apparente furto. L'ultimo episodio alla chiesa di San Sebastiano, sembra a Bottegone, dove sarebbero invece stati rubati alcune centinaia di euro in monete, frutto delle offerte dei fedeli ed è stato aperto anche il tabernacolo.